In questo periodo molti cittadini hanno segnalato la presenza di bocconi avvelenati in diverse zone dell'Alto Garda. Questi bocconi, se ingeriti dai nostri amici a quattro zampe, possono avere conseguenze molto gravi se non addirittura letali. L'ultimo caso in ordine di tempo risale a Domenica quando Aiko, un cani di razza Achita appartenente ad una famiglia residente a San Martino, ha messo in bocca un wurstel avvelenato che era stato lanciato da qualcuno nel giardino dell'abitazione. Per fortuna il proprietario del cane era presente in giardino ed è quindi riuscito a togliere immediatamente il cibo dalla bocca del cane. La famiglia si è recata comunque dal vetrinario a Trento trattandosi di un giorno festivo per un controllo all'animale e le cure necessarie. Aiko fortunatamente ora sta bene. La famiglia si è poi recata dai carabinieri per sporgere regolare denuncia e consegnare come prova il wurstel pieno di veleno per topi. Un brutto episodio simile a quello accaduto non più tardi di un mese fa sempre nella zona dell'oltresarca. Si raccomanda quindi a tutti i proprietari di animali domestici di fare molta attenzione a ciò che viene messo in bocca dal proprio amico a quattro zampe.